Il pericolo della perdita dei 15 milioni di finanziamenti per la riqualificazione costiera destinata ai comuni della BAT è stato scongiurato. Ora, però, si operi nel rispetto di un rigido cronoprogramma. È un messaggio chiaro quello lanciato dal consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo ai comuni di Barletta, Trani, Biceglie e Margherita di Savoia, destinatari dei fondi stanziati dal Ministero dell'Ambiente per la riqualificazione costiera a rischio per il ritardo nella realizzazione degli interventi. C'è stato un incontro convocato dalla Regione Puglia con anche la presenza del Ministero collegato in teleconferenza, regione che ha notificato ai comuni quello che è stato l'esito dell'incontro tra la Regione Puglia e il Ministero la settimana scorsa, esito all'esito del quale il Ministero ha ribadito alla Regione la ferma volontà di rispetto al non ottemperanza nell'accordo di programma delle scadenze, così come evidenziate dai comuni che hanno sottoscritto l'accordo di programma, la revoca dei finanziamenti. La Regione ha convocato i comuni ieri insieme con la provincia manifestando loro purtroppo questa situazione che non può essere ovviamente superata con una richiesta di proroghe perché il Ministero è stato categorico. Loro hanno delle esigenze di bilancio, hanno messo a bilancio per gli anni 2016, 2017, 2018 queste somme, tra l'altro ieri ci hanno anche comunicato che per esigenze di legge di stabilità saranno tagliate come su altri capitoli, da questo capitolo un milione di euro per cui dovremo andare a distribuire queste risorse ai quattro comuni, ma la cosa più importante è sottolineare il ritardo dei quattro comuni sul rispetto del cronoprogramma, delle attività che avevano individuato all'interno dell'accordo di programma. L'incontro avvenuto in Regione ha dunque sortito effetti positivi. Ora però, ammonisce Caracciolo, toccherà ai comuni rispettare un rigido cronoprogramma per concludere i lavori entro i termini prestabiliti. Sì, rispetto all'accordo sottoscritto che prevedeva per alcuni comuni le risorse stanziate nel 2016, per altri comuni nel 2017 e per altri nel 2018, il Ministero impune che per questioni sono ovviamente legate ai bilanci, che tutte le attività devono essere ultimate al 31-12-2019. Ovviamente consideriamo che Barletta ha ottenuto la metà del finanziamento, pari a 7 milioni e mezzo di euro, e con questi 7 milioni e mezzo di euro è in programma la risoluzione del problema del canale H, un problema tanto a cuore a molti, ma di cui pochi fanno seriamente qualcosa. Lo sport più diffuso è quello di criticare senza mai costruire niente di produttivo per questa città.